Sono immagini scioccanti quanto incredibili quelle arrivate dall'autostrada 29 in Sicilia. Un giovane di 21 anni si è salvato miracolosamente dopo che la sua vettura è stata trafitta quasi parte a parte dal guardrail che ha sfondato il vetro proprio passando nella zona della testa del guidatore. Un vero miracolo trasportato in ambulanza con codice rosso presso l'ospedale di Aiello di Mazzara. Il giovane è stato trasferito al trauma center di Villa Sofia a Palermo dove è stato ricoverato e dichiarato fuori pericolo di vita.